Lo stand è perimetrato da una grande libreria, una grande libreria che è proprio un segno dell'azienda e la libreria l'abbiamo portata fuori proprio a testimoniare che questa libreria che contiene il sapere e la competenza di Portione Frao è proprio la sua faccia migliore, il suo messaggio più diretto. Abbiamo proprio predisposto una serie di porte, una in fila all'altra, come le porte nei vecchi palazzi aristocratici e abbiamo simulato questa situazione di tante stanze con tante porte che ogni volta aprono ad un paesaggio diverso, ad una installazione diversa, ad un capitolo del catalogo Portione Frao diverso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.